Siamo qui con il presidente Piero Gattoni del Cib all'incontro organizzato da Confagricoltura. Il presidente ci vuole spiegare in cosa consiste l'accordo e quale ruolo ha Cib? L'accordo consiste nella costruzione di un coordinamento fra le principali realtà industriali impegnate nel trasporto, nella componentistica e nella distribuzione del gas rinnovabile e il mondo della rappresentanza agricola. Noi come consorzio siamo una piattaforma che già in propria origine raggruppa sia i produttori agricoli che l'industria e quindi siamo un po' un elemento, una cerniera fra questi due mondi. Un grande accordo che parte dalla campagna e arriva all'autotrazione, un accordo dove valorizzeremo il metano prodotto direttamente da fonti agricole, quindi un metano naturale, un metano che nasce appunto in campagna e termina nella motoristica italiana attraverso le grandi reti distributive italiane, attraverso le reti di trasmissione italiane, quindi un grande accordo nazionale volto a dar valore alla filiera del metano nazionale, del metano agricolo nazionale, del biometano e credo che tutto ciò non possa che essere un grande vantaggio sia per l'agricoltura, sia per ovviamente per tutta la grande rete distributiva di Eni, di Snam e sia anche a tutta la parte motoristica, quindi un grande successo dell'Italia. Carlo Lambro, amministratore delegato di New Holland. New Holland ha un accordo chiave in questa giornata, perché appunto essendo produttore di macchinari agricoli ed essendo l'avanguardia alla ricerca di quelle che sono le energie alternative per la trazione, noi abbiamo sempre sviluppato quello che noi abbiamo chiamato il Clean Energy Leader Concept, quindi essere leader nel concetto delle energie alternative e oggi vediamo un risultato concreto che porterà o può portare nei prossimi anni a un utilizzo di mezzi, in particolare trattrici agricole, alimentate o a metano o a biometano. Per quanto riguarda le macchine New Holland, qualche anticipazione? Anticipazioni che penso che gli addetti al settore, anche gli agricoltori, i nostri clienti hanno avuto il piacere di vedere anche recentemente a Leima, a novembre, a Bologna, dove fra l'altro abbiamo festeggiato i 100 anni di Fiat e Fiat Trattori, anticipazioni che, sono concrete, parliamo di un mezzo, di un mezzo che noi chiamiamo della gamma media, un T6 a 160 cavalli, un mezzo che oggi ha già avuto parecchie ore di testing, di esperienza non solo in Italia, in Germania, in Nord America, in Brasile, di vedere la luce concreta di alcune flitte, quindi alcuni numeri importanti di questi trattori, già per la fine di quest'anno stiamo già pensando di lanciare, di produrre fra le 15 e le 20 macchine, aumentare sulla base appunto dell'esperienza di performance le macchine al prossimo anno e già pianificare probabilmente per inizio e metà del 2021 una potenziale industrializzazione, quindi vuol dire una produzione di massa e quindi un'accessibilità a tutti i nostri clienti e a tutti gli agricoltori. Grazie.